Abbiamo riconosciuto la verità che tutto viene da Dio e deve essere ricaduto a Dio. Se vuole realizzarsi, se vuole essere quello per il quale è stato creato. Ogni creatura, in particolare noi, siamo creati nell'immagine di Dio. Gesù ha chiesto, ma dammi la moneta, questo denaro, chi c'è? Cesare. Allora, è di Cesare, però vediamo noi dentro, nel nostro cuore, quale immagine, quale iscrizione c'è, è di Dio. Cesare ha creato questa moneta, va data a lui, va bene, però Dio ci ha creato a noi e quindi noi siamo di Dio e dobbiamo essere rendetto, dato a Dio. Questo facciamo in mille modi, con il matrimonio anche, poi dopo celebreremo insieme con due che vogliono rinnovare i suoi promessi, i suoi voti matrimoniali, nell'anniversario loro, anche nella famiglia, in tanti modi noi cerchiamo di rendere a Dio quello che è Dio, cioè darci noi stessi a Dio.